Quello che è successo in Italia è qualcosa che sta succedendo in questo momento nelle dittature islamiche, in Iran in particolare e nella Corea del Nord. In tutto il mondo, in tutti i paesi civili, i reati di opinione sono rubricati nel diritto civile e quindi sanzionati con sanzioni pecuniarie. I magistrati che hanno giudicato Sallusti hanno in realtà applicato una legge fascista che non è mai stata abrogata e quindi servendosi in maniera mirata di questa legge per colpire una persona colpevole di non aver vigilato su una notizia, peraltro una notizia nella quale non si faceva nome del magistrato e quindi non si offendeva in maniera mirata una persona precisa. Se quel magistrato non avesse fatto una causa penale oggi nessuno saprebbe che parliamo del magistrato Cocilovo. Ripeto, si tratta di una sentenza davvero che ci riporta indietro agli anni del fascismo. Nessuno nega che il giornalista debba pagare di quello che fa come direttore e per gli articoli e per ciò che scrive. Oggi, per esempio, nessuno torna più a dire che dovremmo dare le smentite nello stesso spazio e nella stessa evidenza con cui vengono date le notizie. però questo giornalista alla fine ha pagato in maniera impropria. Resta l'amaro in bocca perché viene da pensare che la magistratura che in tanti casi interpreta a suo dire con intelligenza, penso al caso Inglaro, penso ai ricorsi contro la legge 40 sulla fecondazione assistita e su tanti altri casi, dicevo tante volte la magistratura dimostra una grande sensibilità nell'interpretare le leggi. Questa volta abbiamo addirittura una magistratura che considera Sallusti elemento socialmente pericoloso e quindi neppure meritevole di una condizionale che si dà oggi anche ai grandi delinquenti. Mi fa davvero dispiacere, sono triste di essere in Italia dove uno schettino che causa la morte di 32 persone con l'affondamento di una nave è libero in circolazione, un'Italia dove delinquenti che rubano in continuazione pluri pregiudicati sono liberi in circolazione e un giornalista, un direttore bravo e competente di grande sensibilità umana debba andare in galera perché un suo giornalista ha scritto che un magistrato era stato come dire coercitivo nei confronti di una bambina.